Io ho voluto parlare per mezzo dei più giovani. Voi giovani avete tanta forza per dire le cose, per sentire la cosa. Si parla della gioventù d'oggi. La gioventù non esiste, esistono i giovani. Un joven può appoggiare all'Iglesia e al Papa. Non c'è una formula unica per comunicare con Dio. Io per esempio, mi sento in un oratorio o in qualche lugar in mia pezza. Poi pescare un libro, meditar le parole che dice Cristo nel Evangelio, che sono sempre nuove in definitiva. Quando si parla delle cose comuni della vita, come studiare, stare in casa, essere buoni, essere buoni, essere buoni, essere buoni. Lo che le dà il toque distinto o sobrenatural è fare le cose con amore, con miras, a farlo come lo haggia Cristo. È come diceva il Papa a tutti i giovani di Mepù, che faria Cristo nel mio posto? Ci sono molti, però molti, buoni idee in i nostri corazzi e in la menti dei giovani. È quello che noi, la Santa Madre, la Iglesia, oggi necessita di voi, che ci interpele. Che ho ho per portare in la vita? Per sentire la Iglesia come propria, per essere un maggior di edad in la Iglesia, è molto importante prendere il peso del rol che abbiamo noi, gli laici, dentro della Iglesia. Il fatto, per esempio, di tutte le cose che hanno passato in la Iglesia, non sono solamente responsabilità di i sacerdoti, di i religiosi, non sono cose le cose leggi. Noi, gli laici, anche siamo molto responsabili di questo, perché la Iglesia è nostra. Tutti i bautizzati siamo la Iglesia. La misione apostolica della Iglesia o il trasmitire a Cristo al altro è qualcosa che, in ogni modo, le compete a tutti i catòlici. Noi siamo qui per servir, come lo ha fatto Gesù Cristo. La misione del joven sta principalmente in essere esempio di essere un catòlico, di amare al prossimo come a noi. Interlocuire, sentire i giovani. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie.